Un foglio bianco su cui scrivere la storia di questo nuovo comune. Con queste parole stamattina nella sala del consiglio del comune di Colli al Metauro a Saltara, un raggiante primo cittadino ha presentato alla stampa i bozzetti del nuovo stemma comunale e del futuro gonfalone della città che ha come colore di base un drappo appunto di un candido bianco. Da oggi Colli al Metauro ha il suo simbolo, il suo logo che oltretutto a me piace moltissimo. Ed il candore, abbiamo avuto lo stendardo invece farlo completamente bianco, anche qui mi piace molto e dà un significato, è come dire un comune nuovo, bianco, illibato oserei dire, che deve ancora riscrivere tutto il suo futuro, quindi è come dire un foglio bianco con al centro il nuovo simbolo e deve scrivere tutto il suo futuro in maniera inedita. Una scelta articolata e non facile dato che la commissione esaminatrice ha dovuto prendere in considerazione ben 70 bozzetti provenienti dagli studenti delle scuole medie di Saltara e Montemaggiore. La scelta poi è ricaduta sul bozzetto, poi opportunamente modificato secondo le rigide normative di legge in tema di araldica comunale di una studentessa di Calcinelli. Abbiamo premiato una ragazza qui di Calcinelli che ha proposto un puzzle che proprio a mo' di puzzle si incastonava, i tre vecchi simbolo si incastonavano insieme, come dire Saltara, Serungarina e Montemaggiore diventano un tutt'uno attraverso proprio il coinvolgimento, attraverso un puzzle. Abbiamo preso spunto da quello, il puzzle non è consentito purtroppo tenerlo, però abbiamo voluto avvicinare e mettere insieme i tre ex loghi, con alla base quello di Saltara che vuoi o non vuoi è il comune più importante per popolazione e poi immediatamente sopra sia Montemaggiore che Serungarina. Uno simbolizzato dalla stella gialla che aveva nel simbolo Serungarina, uno dai sei colli che aveva come simbolo Montemaggiore e uno il drago, il drago di Saltara alla base che non è esattamente il drago che trovavamo nei vecchi standardi ma si somiglia molto e dà esattamente l'idea di questa storicità che si ripropone. Ora la parola, o meglio il pennello, per dare le dovute profondità e colori spetta ad un pittore che realizzerà il bozzetto definitivo che poi diverrà lo stema comunale. Per intanto come ringraziamento per lo sforzo profuso alle scuole medie di Saltara e Montemaggiore sono arrivati un bonus di 1000 euro ciascuno da spendere in materiale informatico.